Prendiamo posto ragazzi per favore, buongiorno. Iniziamo la conferenza stampa di un film fuori concorso che è Project Wolfhunting della Corea, un film coreano e qui vorrei che voi siete ragazzi giovanissimi studenti del Dams, vorrei che partecipaste perché so che siete dei grandi fan dei film coreani che a mio parere sono straordinari e che in questo momento imperversano chiaramente nella visione specialmente delle generazioni più giovani. Quindi mi aspetto da voi qualche domanda. Intanto volevo dire che il regista del film che si chiama Hong Soon Kim, spero di averlo detto giusto, che sarà tradotto indispensabili da Heming Ra, giusta? Benissimo. Ha detto bene, sono molto 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 contento. Allora Project Wolfhunting è un film adrenalinico pieno di azione e veramente molto molto divertente. Piccola premessa, il nostro regista è il regista della casa di carta Corea, quindi spero veramente di invogliarvi ad aiutarmi a fare domande. Intanto inizio io così rompiamo un po' il ghiaccio e chiedo se un film così pieno di azione, di movimento, pieno di attori, perché ci sono un sacco di attori, è un impegno dal punto di vista registico, fuori dal comune. Importante. Dal punto di vista della regia, un film così pieno di attori, di azione, così significa essere un impegno estremamente importante. Ci sei? Buongiorno. Vorrei. Grazie. Buongiorno. però lui ha cercato di cambiare diversi stili del film per quel motivo in cui lui ha cercato di fare diversi casting di diversi attori perché ogni fase cambiano anche, gli attori principali cambiano per quello che ha dovuto chiedere tantissime attrici. Una domanda che volevo fare al regista Hong Sun Kim, volevo sapere se questo film è uscito in Corea e il tipo di riscontro di se ha avuto successo, se il pubblico l'ha seguito, il tipo di reazione che ha avuto il pubblico in Corea rispetto a questo film. il pubblico in Corea si è il pubblico? 9월 달'è ho divulgato il pubblico. Sono le pubblico che avevo a creare un pubblico, e i molti bambini, i più di 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 più. Oltre a due persone ai sbagliati, in Italia sono più piaciute. In Italia, anche in Italia, hanno molto piaciuto. Questo film è stato in settembre, una volta, un po' di maniaco, ma una persona di più piaciuta, e dicono è troppo curante questo film, quindi diciamo metà e metà. Comunque è successo in Corea, alla fine ha avuto grande successo forse anche più all'estero. Volevo chiedere, sono circa una decina d'anni che in Europa, io adesso parlo dal punto di vista dell'Italia, il cinema coreano ha un'attenzione particolare, sta riscuotendo molto successo anche in Italia e in Europa. Ecco, come si spiega questo successo del cinema coreano in tutto il mondo? Ma un'attenzione particolare, come si sia chiaro, quello che guarda del cinema, è un'attenzione particolare, un'attenzione apprende a 2019-2015, COVID-19, la prima volta, non viewedare una copera sicurezza? La paracite, la scuola è un'attenzione, in detenzione. e anche prima del coronavirus, prima di pandemia, Il film coreano comunque aveva una buona posizione, però dopo che Parasite ha avuto un gran successo in tutto il mondo, tutte le altre persone hanno iniziato ad essere ancora più interessate sui film coreano. Quindi io mi sento molto più felice, mi fa portare molto più avanti. Un film così pieno di azione, così pieno di attori, di momenti, anche ambientato in una nave, quindi è un film con un grosso impegno produttivo. Ecco, io volevo sapere come ha trovato i finanziamenti per fare questo film e quanto è durata la lavorazione del film? Il film è molto più difficile, però il film è molto più difficile da fare questo film, però il film è molto più difficile da fare questo film, quindi il film è quanto riguarda il tempo? Ah... O... 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 Non solo perché è una discursa molto lunga. 2019, il mio film è Metaphomosis, il tuo film di Torino. 2019, il mio film è venuto a qui con il mio film, Metaphomosis, il tuo film. Sono stata circa dieci giorni a Torino, poi in totale circa un mese in Europa. Durante quel viaggio ho cercato di organizzare questo film. Quindi è stato molto felice e felice. Quindi è stato scritto in 2020. Il film è successo per il 2021. L'Università della Fondazione della Fondazione della Fondazione della Fondazione. Sono molto, sento molto onore di essere presente in questo film festival, film è iniziato di fare 2021, funding ci ha messo circa sei mesi di raccogliere, diciamo, di supporto economico. Quindi 21년도 6월부터 촬영을 해서, 2022년도 1월까지, 7개월 정도 촬영을 하고, 그 안에 100회차 정도 찍었습니다. Iniziato giugno 2021, fine 2022, 1월까지. Finno gennaio circa 7 mesi messo alcuni scena dovuto fare, 100 volte dovuto anche riscattare. E la cosa più difficile è di creare una scena in cui ci sono tanta sangue, fatto, fatto, ha cercato di creare sangue più reale possibile. E' una, diciamo, parte più difficile di creare, di film, azione, fantascienza. Ok. Allora, c'è qualche domanda? Perfetto, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere qualcosa riguardo, se ci può dire qualcosa riguardo i personaggi di questo film, in particolare il loro rapporto con la mostruosità che li rappresenta. Grazie. Grazie a tutti. Fiamma su mille sono utile, i ragazzi a tantissimo 있는 scene di 화면, e percivalone. Si, alla Wilde? Chiamo ancora qui la nostra старazione abbastanza riguardo. in base al film di accion, poi diventa un film di creatura, di un film di creatura. So, magari, you can speak English, so maybe she is a little lover, so I won't say English. So, my film is like criminal action movie, gonna change the creature movie. So, like, you know, Alpa is the, you ask about Alpa, right? Yeah, Alpa, yeah, Alpa, like, how can I say? Alpa and another character's community, you mean, connect. Like, how, yeah, yeah. So, Alpa is, like, just from a long time ago, like, you know, World War II, and it's about the medicine company. They wanna bring him to Korea, from Philippines, and just there are kinds of coincidence for another criminal. They wanna, like, get the ship and go to another country, but there are, unfortunately, inside Alpa is there. So, it's like, they, actually, their connection doesn't have, like, they put them for criminal and for detectable. It's like, kinds of coincidence. Yeah. Yeah. I think, like, usually, when she translates, she gets, like, the question before, but she didn't get the question not yet. So, maybe she gives some nervous right now. So, please understand. So, maybe she can do it very well. So, after that, I'm gonna speak Korean. I'm sorry about that. No, 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 no. Sì, riguardo, appunto, alla mostruosità, dice, che raccontava, appunto, che i personaggi, ci sono questi personaggi che stanno andando verso un'altra città, verso un altro paese, attraversano il mare, quindi si crea questo contesto mostruoso di per sé nel fatto che sono isolati all'interno. Se mi aiutate anche voi lì dietro, nella traduzione io sarei contenta, ecco, però... Però, guarda, è più che sufficiente, perché tanto ci siete soltanto voi del Dams, quindi, francamente, se la cosa è diretta a voi, io sono più che soddisfatto, non è un problema. Quindi, se sei soddisfatta della risposta, va benissimo per me. E se avete altre curiosità, ragazzi, io pensavo che questo potesse essere uno stimolo per voi, francamente. La presenza di un giovane regista coreano di un paese che sta diventando padrone del mercato cinematografico, veramente. Comunque, ho un altro, un altro tipo, questa è una curiosità, in realtà, legata proprio a lui personalmente. Vorrei sapere quando ha iniziato a interessarsi di cinema e se il cinema di azione era proprio il suo obiettivo, il suo trend. Sì, volevo sapere se quando ha iniziato a occuparsi di cinema, ha iniziato a lavorare nel cinema, e se il cinema di azione era il suo obiettivo, cioè di fare dei film d'azione. Oppure aveva intenzione, aveva magari l'idea di fare altro cinema, invece poi è stato soddisfatto, gli è piaciuto di più fare dei cinema di azione. rendered走 sempre, atti? Esatto. Si. E? È stata un giovane, la cance di si? Esatto. No, io è ci. Il primo film è trillante e occulte, e che aveva già fatto 10 anni, a 2 anni, per le giorni di trillante, che aveva anche il fatto molto più reale, è un film che si fa fare un film che è stata iniziata a ritorno. Sono circa 10 anni fa, il primo film era trillante, quindi poi il filmazione, poi di nuovo ho tornato thriller e ho fatto anche action, poi ho cercato di fare occulte thriller, poi in questo momento lui ha cercato di fare film molto più reali, quasi più iporealismo, voleva andare lì, quindi ho iniziato questo film, il project Wolfhunting. Ok, ecco c'è una domanda. Sì, inglese o italiano? No, cosa faccio? Fallo in italiano, poi in italiano. E a questo punto viene da chiedersi quali siano i suoi riferimenti, le sue ispirazioni come registi, chi le piace, chi è coreano, americano, italiano, insomma, chi le piace? I registi di ispirazione? Sì. Sì, 어디서 영감을 얻으시는지, 혹시 다른 감독들이나 다른 영화나, 한국 영화나, 다른 유럽 영화나, 그런 영감을 얻으시는 분이 있는지? Sì. Sì, a quei... Sì, ad esempio Sì, ad esempio. Inarito il Sì, Inarito il Dito, Sì, Sì. Sì, 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 e anche in Italia, 3 anni fa, in cui sono stati molto spostati, e il nostro sogno di nusitare di nusitare. Il nostro film è il nostro 3 anni, Amoris Pera, City of Ga, e il nostro film è il tuo giorno. a me piace mi piacciono tre film Amor Speros Alejandro Inalitu e poi The City of God poi Training Training Days però io ispiro tanto guardo tantissimi e lego tantissimi i giornalisti perché ispira tanto quello che è successo davvero realmente quando sono stato qua in Italia ho cercato tantissimi articoli di giornali e proprio lì sono giusto di trovare questa storia che è creata di questo nostro film e proprio trovato durante il viaggio in Europa C'è qualche altra domanda? allora faccio la domanda conclusiva volevo chiedere al nostro regista se Project Wolf Hunting avrà una distribuzione italiana europea o nel mondo che tipo di vita commerciale avrà? il nostro regista il nostro regista il nostro regista Avete visto il suo film? Credo che non avete guardato il mio film, certo? Ah, sì. Magari oggi, sì. E' per questo che non avete domani per me. Credo che, fortunatamente, Spagna, England, France, anche Italia, in Italia, molti europei festivalli invitati a mio film. E io sono andato in Europa circa circa 1,5 mesi. Spagna, England, Francia. E questo è stato un momento per me. Mi piace molto. E io credo che abbiamo già venduto l'Italia, Francia, England, Scotland, Spagna. Abbiamo già venduto. Quindi, credo, o spero, il mio film sarà buono per gli europei. E mi piace davvero, credo. Sì. Sono stato circa un mese e mezzo in tutta Europa, in Spagna, in Inghilterra, in Francia. E anche diversi di case hanno già comprato. quindi, secondo me, andrà molto bene, anche in Europa, anche per consumatori europei. E noi glielo auguriamo. Siamo molto contenti che il film avrà molto successo, se glielo puoi dire. E ringraziamo Hong Sun Kim di esserci venuto a trovare al Festival di Torino. e ringrazio Heming Roh per la traduzione. Grazie. Grazie. Quindi, venite oggi, guardate il mio film. Quindi, forse, potremmo tutti, vi piaceremo. Grazie. Grazie molto. Sì, per chi non l'ha visto, andatelo a vedere, ragazzi, perché è molto, molto divertente.